Mi rendo conto di essere accercato da visioni del mondo totalitarie, in senso buono, c'è chi vorrebbe che un premier di una maggioranza d'unità nazionale spegnesse gli aerei e realizzasse una transizione energetica durante una guerra che è difficile da realizzare anche per l'Europa perché il tema del riaccendimento dei combustibili fossili è legato alla transizione che viviamo, alla crisi che si è aperta con la crisi russa e lo ha fatto anche la Germania che ha una dipendenza energetica dalla Russia maggiore e bisognerebbe interrogarsi perché l'Italia ha una tale dipendenza energetica dalla Russia perché gli stessi movimenti che preconizzano un mondo diverso e che propugnano un mondo diverso si sono opposti per esempio a quella transizione energetica che avrebbe dovuto portare il TAP, i regassificatori, le trivellazioni in Adriatico che avrebbe dovuto investire sulle fonti non fossili e quindi per esempio l'energia eolica che è stata boicottata dalle stesse organizzazioni diciamo che vorrebbero si sono opposti al TAP e all'Eolico Forciniti. Ma certo come no, certo che si sono opposti al TAP, io sono nativo di San Foca che è la località sotto la quale, è una frazione del comune di Melendugno sotto la quale passa questo tubo e una decina di anni fa quando ho iniziato questo gioco io ho ricevuto tante telefonate dai miei conterranei, amici che mi hanno chiesto ma dacci una mano qui passerà e io dissi guardate che io sono favorevole a questo tubo, io ho fatto un bagno la settimana scorsa meraviglioso nelle acque più belle e più pulite d'Italia e il tubo l'avessimo fatto un po' più grande forse oggi non avremmo il problema di riaccendere gli impianti a carbone perché avremmo meno dipendenza dalla Russia. Tanto per spiegare bene anche chi ci segue, il tragitto che fa il TAP e arriva lì a Melendugno dove stavi giustamente raccontando. Adesso il TAP è la soluzione ai problemi, è stata la iattura, il pericolo mortale per il nostro paese e quindi di che parliamo? Il problema è che chi ha una visione totalitaria del mondo non ha poi la capacità di capire che ogni scelta dei prezzi, dei costi che vanno giustamente affrontati, sostenuti e bilanciati con la consapevolezza che la democrazia è compromesso, non è il mondo che racconta Fusaro, il mondo che racconta...